In questi giorni, nelle ultime settimane, qualcuno artatamente ha voluto mettere in giro e qui lo dico perché c'è l'amico Roberto prima che è sindaco di Caltanissetta qualcuno ha voluto mettere in giro qui a Caltanissetta che noi ormai non abbiamo più lo stesso feeling di prima che noi non abbiamo più... Signori sono cavolate, queste cose non corrispondono al vero non facciamoci dividere da chi vuole dividerci è bellissimo il video che abbiamo visto all'inizio che ci richiamava a essere squadra al di là dei colori che possiamo vestire, al di là delle maglie che possiamo indossare al di là delle persone e delle idee che possiamo avere e per carità, viva la ricchezza e viva la diversità siamo chiaramente tutti portati a portare un contributo e il confronto è certamente crescita ma non è vero che c'è una divisione e non ci sarà mai perché entrambi, io e Roberto, ma tutti quanti quelli che siamo qui stasera e non solo siamo tutti con la nostra città, siamo tutti col nostro territorio e questa è una cosa molto importante e allora le divisioni che qualcuno le scriva sui giornali o che qualcuno le racconti in piazza rispeditele al mittente Lo ha detto dal palco, ha ribadito Giancarlo Cancelleri per diradare le nubi che si erano addensate sul rapporto con il sindaco Roberto Gambino rapporti incrinati durante la storia di quel pasticciaccio brutto del rimpasto fallito e che per inciso non si farà ha tuonato con chi secondo il sottosegretario tende artatamente a spaccare il movimento o quel che resta dei 5 stelle e se la scena manifesta è fatta di sorrisi e bracci la scena nascosta racconta un'altra storia i ben informati dicono che da un lato il sottosegretario è fortemente deluso dell'emancipazione del sindaco che dopo tre anni di mandato sceglie, decide da solo dall'altro pare che il sindaco si sia irrigidito proprio a causa del paventato rimpasto trattative condotte per la maggior parte dal sottosegretario intanto la sera dell'assemblea cittadina erano seduti accanto e dopo l'intervento di Cancelleri Gambino gli ha anche stretto la mano e però anche il gruppo consigliare che prima era saldo per essere spaccato chi della corrente Cancelleri chi della corrente Gambino avanza a grandi passi la campagna elettorale e ora i nodi andranno al pettine se le mosse saranno univoche oppure ciascuno andrà per la sua strada anche in vista delle prossime amministrative